Buona domenica sera a tutti. Termina questa domenica che è dedicata al Buon Pastore. Pregate sempre per i pastori della Chiesa. Pregate sempre per i vostri sacerdoti. Pregate sempre, anche per me, perché ne ho tanto di bisogno. Tutti i giorni ricordatemi a Gesù e a Maria. Ecco, nel Vangelo di questa domenica Gesù si presenta come pastore e ci invita a mangiare di Lui, la Sua carne. Io pensavo a questo. È un grande privilegio e responsabilità tutte le volte che celebro la Santa Messa, no? Ma anche per voi, tutte le volte che partecipate alla Santa Messa, è un grande privilegio e responsabilità, perché siamo alla presenza del Signore. A un certo punto, chi può, chi è nello stato di grazia, si accosta a ricevere Gesù e Eucaristia. Io pensavo a questo, che in quel momento tutti noi che riceviamo Gesù e Eucaristia diventiamo tabernacoli viventi, luoghi che ospitano la presenza divina di nostro Signore. Ora, capite perché è importante ricevere la comunione senza peccato mortale, in stato di grazia? Perché Dio Onnipotente entra nel cuore umano e più è pulito questo cuore, più è ospitale e più la luce che si deposita in esso invade la nostra anima e la nostra vita. Ora, noi possiamo scegliere di essere tabernacoli belli o tabernacoli brutti, tabernacoli santi o tabernacoli pieni di peccato. E quindi possiamo scegliere se far sì che questo tabernacolo sia sempre visitato oppure abbandonato. A volte dovremmo pensarci tantissimo quando ci mettiamo in fila per ricevere l'Eucaristia. Non ricevo qualcosa di insignificante, ricevo il tutto, ricevo il sommo bene, ricevo la luce, la grazia, la santità, l'amore, ricevo Dio. È vero che Dio è per tutti e per i peccatori in modo particolare, però dobbiamo anche sforzarci di essere in più possibile nella grazia di Dio quando ci accostiamo a ricevere Lui. Lo preghiamo da peccatori, lo mangiamo da gente purificata grazie al sacramento della confessione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Domani inizia il mese di maggio, mese mariano. Allora concludiamo questa giornata Invocando lei, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Sono sicuro che molti di voi domani andranno in chiesa e chi vuole iniziare con me il mese di maggio, alle 17.20 pregheremo il Santo Rosario alla Madonna. Ciao a tutti, buonanotte, che il Signore custodisca il vostro riposo e il vostro sonno.